Una buona serata ai telespettatori di Seila TV News, apriamo il nostro notiziario con la cronaca, hanno confessato gli autori del delitto Zilliani, sono quasi tutti nello stretto ambito familiare. Svolta nel caso Zilliani, l'ex vigilessa di 55 anni uccisa a Temù in Alte Valle Camonica l'8 maggio dell'anno scorso. Il bergamasco Mirto Milani e la fidanzata Silvia Zani, figlia della vittima, hanno confessato di essere loro gli assassini in un lungo interrogatorio in carcere dove sono detenuti dal 24 settembre scorso insieme a Paola, l'altra figlia della vittima, 20 anni, in queste ore sottoposta ad interrogatorio serrato. Nella giornata di oggi Mirto Milani è stato trasportato in ospedale dal carcere per un crollo emotivo. Avrebbe infatti minacciato il suicidio facendo quindi scattare il protocollo necessario in questi casi che prevede il piantonamento nello stesso ospedale dove è ricoverato. Il movente, secondo il GIP, sarebbe il denaro. Laura Zilliani, scrive lo stesso GIP, è stata uccisa con l'intento di appropriarsi in via esclusiva del patrimonio familiare. Il magistrato ha aggiunto che le due ragazze sarebbero state manipolate proprio da Mirto Milani. Laura Zilliani fu uccisa per soffocamento dopo essere stata stordita con ansiolitici e sepolta lungo le sponde dell'olio proprio a Temù. Parliamo ora di mobilità, in particolare del treno da Orio dall'aeroporto a Bergamo con l'intervento dell'assessore regionale Terzi che ne ha un po' per tutti. Bergamo è ad un punto di svolta in tema di viabilità. Molti sono i progetti in via di definizione, altri quelli già avviati con i cantieri aperti come quello per il rifacimento del rondò dell'autostrada. Il problema è caldo e sentito tanto dalla città quanto dall'Interland e dalla provincia. Paesi come Curno e Mozzo chiedono modifiche alla viabilità per decongestionare le vie del paese. La Val Brembana tende con ansia la paladina sedrina e nel frattempo i treni tengono banco, sia quello verso l'aeroporto che tutto ciò che riguarda il raddoppio della Bergamo-Montello. Sicuramente è l'è treno per Orio a rappresentare il nodo più intricato, un progetto che da anni crea discussione sia a livello politico che di comitati di quartiere. Tra i più battaglieri c'è quello di Boccaleone che torna a farsi sentire. Il Ministero della transizione ecologica ha ripubblicato il progetto, ma le critiche sono ancora tante. Da una parte non si capisce entro quando vadano fatte le osservazioni, 15 o 30 giorni, dall'altra l'esito del Ministero non funziona e ha fatto sparire alcune risposte date alle osservazioni dei comitati. Poi la critica al progetto vero e proprio perché il Comune non ha tenuto conto del parere dei beni culturali e ha approvato la chiusura del passaggio a livello di Via Recastello e il passaggio a raso del treno tra la rotonda di Via Lunga alla Fiera e il Vaio Rota, deturpando a detta dei comitati la cintura verde, creando percorsi ciclopedonali inutili e costringendo la realizzazione della strada per i veicoli i cui costi saranno stellari e il percorso arzigogolato tra sottopassi rotonde tra Via Gasperini e Via Verne alla Celadina. La conica la risposta dell'assessore alle infrastrutture di Regione Lombardia, Claudio Maria Terzi. Abbiamo recuperato i fondi, stiamo recuperando i fondi, adesso però bisogna andare avanti spediti, cioè non possiamo, capisco tutte le esigenze dei vari territori, ma qui bisogna sempre aver chiaro qual è l'obiettivo finale, che è un obiettivo che è sovralocale, addirittura sovraprovinciale. Qui dobbiamo far crescere il nostro territorio e far crescere il nostro territorio vuol dire fare investimenti ma che devono essere messe a terra il prima possibile e non possiamo permetterci di far passare ancora decenni prima di vedere realizzate queste opere. Questo è quello che mi sento di dire, è un po' un atto di responsabilità da parte di tutti avendo una visione che va al di fuori del proprio orticello, importante assolutamente, ma veramente l'obiettivo finale deve essere il fulcro della nostra azione. E a proposito di mobilità, quella un po' più semplice, il sindaco Giorgio Gori, il sindaco di Bergamo ha un desiderata, vorrebbe che i bergamaschi andassero un po' di più a piedi. Mi piacerebbe una città in cui ci si muove di più a piedi, lo ha detto questa mattina il sindaco Giorgio Gori a margine dell'incontro a Palazzo Frizzoni con gli studenti dell'Università di Bergamo e i colleghi della città tedesca di Ludwigsburg. I ragazzi hanno elaborato un dossier con diverse proposte da presentare al Consiglio Comunale nei prossimi mesi, proposte negli ambiti della comunicazione, dell'alfabetizzazione digitale, dell'inclusione e soprattutto della mobilità sostenibile. Nella città tedesca l'8% dei residenti raggiunge il centro in bicicletta, mentre sono il 25% quelli che vanno a piedi, arrivando in ogni punto in meno di 15 minuti. Un orientamento che anche l'amministrazione comunale di Bergamo condivide. Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. È stato lo stesso lavoratore a chiamare i soccorsi che dopo un primo esame hanno provveduto a trasportare il ferito all'ospedale di Chiari dove hanno accertato solo contusioni ma nulla di grave. Sul posto i tecnici ATS specializzati in sicurezza e i carabinieri di Urniano per le verifiche del caso. Parliamo ora del tram delle valli, la linea T2 pronta entro il 2026. Prendete carta e penna e segnatevi questa data, 2026. Sì perché entro quella scadenza Bergamo avrà la seconda linea del tram delle valli. Almeno questo è quanto scritto nell'ultima relazione di bilancio consuntivo presentata dalla Teb. La cosiddetta linea T2 nelle previsioni collegherà il capoluogo all'imbocco della Val Brembana, zona Villa Dalmè. Nel documento di Teb la sua realizzazione è confermata entro il 2026. Il tracciato della tramvia si sviluppa per quasi 11 chilometri e mezzo, attraverso 5 comuni per un totale di 17 fermate. Costo stimato 178 milioni di euro, di cui 125 finanziati dal Ministero dei Trasporti, 40 dalla Regione, 9 e mezzo da Comune e Provincia di Bergamo e 4 milioni dagli altri comuni interessati all'opera. Secondo le stime a regime la nuova linea trasporterà 4 milioni di passeggeri l'anno. Il progetto di fattibilità è già stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture, quello definitivo è in fase di elaborazione. Dopo le polemiche sul treno per orio, una delle questioni fondamentali però sarà capire come il tracciato attraverserà la città. Il punto più delicato sembra essere quello dei dintorni dello stadio. Il tram, secondo le previsioni, passerà lungo il vecchio sedime ferroviario che lambisce il quartiere Finardi, poi raggiungerà via Crocefisso in un territorio residenziale fortemente urbanizzato. E proprio qui potrebbero arrivare i problemi, come far passare il tram delle valli fra palazzi, scuole e curve a gomito praticamente obbligate? Parliamo ora di Astino. Aprono gli estivi nella prima settimana di giugno e c'è anche positività sulla scuola di alta specializzazione. Astino, uno dei luoghi del cuore di Bergamo di rara bellezza. Punto di forza la ristorazione che quest'anno durante la stagione estiva, partendo già dalla prima settimana di giugno, proporrà tre tipologie di offerta culinaria. Protagonisti la famiglia Cerea con il celebre marchio Da Vittorio, Da Mimmo e la storia della pizza in città alta, ed infine Cavour, altra realtà consolidata. Un percorso più complicato è invece il progetto della scuola di alta formazione. La fondazione mia, che si è occupata del prezioso restauro di tutto il complesso ancora in atto, vuole concretizzare l'idea. Parte attiva del percorso è Chico Cerea, chef stellato e dallo stesso tempo imprenditore. Io sono stato con la mia famiglia, sono stato coinvolto e il progetto sta andando avanti, vedremo che forma prenderà. Si punta a livelli di formazione d'eccellenza, da quella scuola dovranno uscire professionisti del settore food, puntando sull'arte del cibo, ma anche sulla capacità di fare impresa e comunicare. Le ambizioni sono forti, sono grandi, però ce la metteremo tutta, perché penso che sia per Bergamo, ma per noi, riuscire a dare delle opportunità ai ragazzi giovani, soprattutto indirizzati nel mio settore, ha però ad avere una formazione più ampia, più conoscenza, insomma anche nel mondo imprenditoriale, sia importante. Questa è un'evoluzione che c'è stata negli ultimi anni nel mio settore e con questa scuola dovremmo riuscire ad insegnare loro, oltre che a fare le lasagne, il gnocchio, il vitello tonnato, anche a come gestire un ristorante, come gestire se stessi. Questa è una cosa molto importante. Parliamo di una nuova ciclabile entro l'autunno tra Seriate e Pedrengo. Il sogno è collegare tutto il corso del Serio. Un chilometro e mezzo per aprire le porte ad un sogno, creare un unico percorso ciclabile protetto che porti da Val Bondione, dove il fiume Serio nasce, fino a Montodine, dove sfocia. È la lunghezza della pista ciclopedonale che entro l'autunno di quest'anno sarà creata nel parco del Serio, tra Seriate e Pedrengo. I lavori di realizzazione inizieranno a luglio e costeranno 430 mila euro, di cui 300 finanziati da Regione Lombardia, 50 dal parco del Serio e 40 test dai comuni di Seriate e Pedrengo. Una strada utile per chi si muove ogni giorno in bicicletta, ma anche per incrementare la pil del territorio. Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo innanzitutto di realizzare questo nuovo percorso e di renderlo attrattivo ai nostri cittadini, ma in realtà anche a livello turistico e a tutti i cicloamatori che frequentano il parco del Serio. Non è poi un punto di arrivo, ma per noi è un punto di partenza. Una volta raggiunti a Pedrengo, potremmo, coinvolgendo anche l'ente provinciale e gli altri comuni, provare a realizzare quello che è ancora un sogno, un unico percorso ciclabile che si congiunga anche alle piste della Val Seriana, così da avere tutto un unico percorso da Val Bondione, dove il Serio nasce, a Montodine, dove il Serio sfocia. Un'idea che balenava nella testa dei fautori di questo progetto da diversi anni, a breve sarà realtà. Un modo concreto per promuovere la mobilità sostenibile per dare di fatto il benvenuto a Pedrengo nell'ambito del parco del Serio. Siamo soddisfatti perché siamo convinti che anche queste piccole azioni, seppur contestuali, possono garantire un maggior benessere per i nostri cittadini. Il percorso partirà da Seriate in via Veneziana e arriverà a Pedrengo in via Giardini. Lungo il tratto di ciclo pedonale saranno le stite aree di sosta attrezzate e indicazioni per godersi gli angoli più affascinanti del parco lungo le sponde del fiume. Cambiamo decisamente argomento. Parliamo dei dati settimanali forniti da ATS Bergamo sul Covid. I dati settimanali di ATS confermano la netta tendenza al decremento della curva di incidenza dei casi Covid in Bergamasca. Nella settimana dal 18 al 24 maggio il nuovo tasso di incidenza è pari a 172 nuovi casi ogni 100.000 abitanti contro 283 della scorsa settimana, anche se rimane la cautela determinata da una probabile sottostima dei dati determinata dal calo dei tamponi, essere scesi sotto la soglia d'allarmi dei 250 casi è un segnale molto positivo. L'indice di trasmissibilità RT scende ulteriormente a 0,53 da 0,76 di sette giorni prima, mentre risulta un ulteriore calo dei ricoveri ordinari che passano da 65 a 49 e una stabilità dei ricoveri nelle terapie intensive che sono 6. I comuni con zero nuovi casi negli ultimi sette giorni sono 43, pari al 17,7% sul totale dei comuni bergamaschi. Tutti i territori della provincia segnano indici di incidenza in decremento. Infine i bergamaschi ancora in quarantena perché risultati positivi al tampone, che attualmente sono 3.129. E ora i dati invece quotidiani che riguardano la regione Lombardia, 31.000 o poco più i tamponi effettuati, 8,6%, la percentuale dei tamponi risultati positivi. A Bergamo sono 201 i nuovi tamponi positivi, quindi le persone che andranno in isolamento, in terapia intensiva in Lombardia, meno due ricoveri e meno 59 nelle corsie ordinarie. Purtroppo vedete ancora l'incremento dei eccessi notevole, sono 27 le persone che hanno perso la vita per il Covid. Andiamo ora in pubblicità, ci fermiamo un attimo, ci troveremo con dei giovani che imparano la musica a quella alta e i bergamaschi dell'Atalanta che portano fortuna in quel dell'America. Ben ritrovati con le notizie di Sella TV News, vi parlavo di giovani e musica, bella gioventù e musica eccezionale che insieme danno un risultato splendido. Due i comuni coinvolti, Mozzo e Gorle. Oltre 300 ragazzi della provincia appartenenti alle scuole medie, 25 ragazzi del conservatorio e 10 professori dell'Università di Bergamo pronti ad insegnar loro ad apprezzare la musica classica novecentesca. Questo in numeri il progetto educativo messo a punto da Fondazione Carlo Pesenti e Festival Pianistico Internazionale. Giovani parlano i giovani di musica classica suonando e specificando loro post cosa hanno suonato e anche tutte le dinamiche che li hanno portati ad essere dei potenziali pianisti. Ma ai ragazzi piace di più trovare dei loro quasi coetanei che spiegano loro un percorso che loro non si immaginerebbero mai. Quindi vuol dire dimostrare anche che c'è un futuro studiando musica, studiando arte, studiando cultura. Questo è proprio il nocciolo del progetto, saperlo portare con parole che riescono ad entrare in quello che è il linguaggio dei giovani che sappiamo che differisce dal linguaggio classico di come si viene narrata la musica classica. Fin dalla sua origine Fondazione Pesenti ha sempre accompagnato tutte le manifestazioni del Festival Pianistico e questo progetto educativo non è da meno. È la riconferma della presenza sulla città di Bergamo di Fondazione Pesenti. Oggi la nostra attenzione maggiore è alla formazione culturale e sociale delle giovani generazioni. Quindi noi investiamo sulla speranza del nostro futuro. Allora parliamo di Atalanta. I percassi sono andati in trasferta negli Stati Uniti per parlare del futuro, delle imminenti scelte e per portare Fortuna e Celtics. A pochi giorni dalla fine del campionato siamo già in una fase importante che riguarda il futuro dell'Atalanta. I percassi sono volati negli Stati Uniti per un summit con gli azionisti di maggioranza capitanati dal co-presidente Paiuca. Un confronto sui temi più attuali, mercato, giocatori, strategie di marketing, campagne abbonamenti e soprattutto obiettivi per la prossima stagione. Sono quelli che convinceranno definitivamente Mr. Gasperini. Si dovrà trovare anche un modus operandi con i due nuovi innesti dirigenziali, il talent scout Lee Congerton e il direttore sportivo Tony D'Amico che dovrà ereditare il lavoro estremamente positivo di Sartori e migliorarlo, compito decisamente non facile. Piedi per terra, alla percassi, ma pensiero fisso a quanto sono verdi i prati europei, nel mentre le prime avvisaglie della campagna acquiste-vendite. La Lazio ha sondato per carne secchi. Il giovane 22enne, 1-91, appena promosso in Serie A con la Cremonese. La Dea vuole 15 milioni, i celesti ne offrono 10, staremo a vedere. Nota a parte, gli imprenditori seriani hanno portato molta fortuna ai Celtics di Paiuca che hanno vinto gara 4-5 nell'NBA americana contro Maieni. Vorremmo parlare di reciprocità, ma ci sarà tempo per ricambiare la buona sorte. La novità che riguarda l'Atalanta, che torna nelle valli bergamasche dall'11 al 17 luglio, l'Atalanta in ritiro a Clusone. La stagione inizierà una settimana prima, presso il centro Bortolotti di Zingogna, dove ci saranno i primi test fisici e le visite mediche. Poi tutti a Clusone per la vera preparazione in vista di un campionato particolare che sarà praticamente praticato in due fasi e in mezzo i mondiali. Ora ci vediamo insieme il tempo che farà nelle prossime ore 3B Meteo. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Mano e Mazzolini di 3B Meteo. Nel corso del fine settimana un vortice di bassa pressione si scaverà tra le isole maggiori, dove porterà condizioni di tempo a tratti instabile. Confluiscono nel contempo correnti dai quadranti settentrionali che portano anche alla formazione di rovesci temporali sui settori alpini e prealpini, in locale sconfinamento sabato sulla Val Padana. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio come sarà la giornata di venerdì sulla Lombardia, giornata ancora all'insegna del bel tempo, ampi spazi di cielo sereno. Solo nel corso del pomeriggio sera qualche equazione si formerà qua e là su Alpi e prealpi e con temperature che sono in leggero rialzo, punti ancora vicino ai 30-31 gradi. Ma entriamo più nel dettaglio per quanto riguarda la nostra provincia. Sarà un venerdì all'insegna del bel tempo, ampi spazi di cielo sereno, solo nel corso del pomeriggio qualche annuvolamento in più sui settori aerobici con il rischio di isolati e brevi fenomeni. Temperature in leggero rialzo, punti vicino ai 28-30 gradi. Per quanto riguarda la giornata di sabato inizierà ancora l'insegna del bel tempo, ma verso il pomeriggio sera nuove acquazioni o temporali si formeranno sui settori alpini e prealpini, sconfinando localmente anche sulle pianure fenomeni a tratti anche di moderato a forte intensità e come notiamo con temperature in diminuzione massime che non vanno oltre i 26-28 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domenica, tempo in graduale miglioramento, ancora qualche fenomeno inizio giornata, ma poi tendenza a miglioramento, temperature in leggera diminuzione, bel tempo poi inizia la prossima settimana in attesa di nuova instabilità da mercoledì. Per maggiori dettagli comunque scaricate l'app gratuita di Trebbi Meteo. Nessun'altra nuova notizia, le vostre segnalazioni a redazione chiocciolaseilatv.tv Vi auguro una buonissima serata.